Grazie, sono davvero eccitato per questa nuova avventura, sono una persona molto ambiziosa e non vedo l'ora di giocare in Serie A, dare il meglio per questo club e raggiungere i nostri obiettivi. Beh sì, ho vinto due titoli con la Stella Rossa di Belgrado in Serbia, adesso per la nostra ambizione dobbiamo lavorare duro sin dall'inizio e dobbiamo guadagnare molti punti nella prima metà di stagione. Beh sto bene, ho giocato 6-7 partite ed ho segnato due reti, sono pronto per questo nuovo inizio. Sì sì, lo so, gli ho inviato un messaggio ieri dicendo che avrei firmato qui, si parla di Golevic, perché lui è un ottimo amico di un mio ex compagno alla Stella Rossa, Milunovic. Posso solo dire che daremo il meglio e che lotteremo dalla prima all'ultima gara.